Le immagini dell'astronauta Samantha Cristoforetti, ora anche ambassador di Expo 2015, e del suo collega Scott Kelly, che bevevano il caffè espresso sulla Stazione Spaziale Internazionale, hanno fatto rapidamente il giro del mondo, un legittimo momento d'orgoglio per il cibo e per l'industria tecnologica italiana. Per questo abbiamo deciso di andare a Torino a vedere cosa c'è dietro al processo industriale che ha portato la macchina del caffè spaziale a volare sull'ISS e negli stabilimenti dell'Argotech, l'azienda che l'ha ideata e costruita, abbiamo scoperto una realtà di giovani ed entusiasmo, di talenti coltivati e aspirazioni realizzate, e il presidente Davide Avino. L'età media del nostro personale è di circa 29 anni, ed è bello perché quello che noi cerchiamo di portare avanti sono le idee, l'innovazione di queste persone, innovazioni che vengono proprio da progetti che loro stessi propongono e quindi sentendosi parte di questo gioco, di questo grandissimo se vogliamo gioco, può portare anche tantissime soddisfazioni a loro. In questi capannoni tra provette, progetti, brainstorming e computer nasce anche il bonus food degli astronauti europei. Un trionfo di italianità che, contrariamente a ogni trend, i cervelli, anziché farli fuggire, fa di tutto per tenersi distritti. Siamo veramente molto orgogliosi di essere italiani, infatti nei nostri laboratori, ma nei nostri uffici ci sono bandiere italiane dappertutto. È importante in questo modo cercare, se vogliamo, anche di tenere in Italia dei giovani di talento e se vogliamo essere anche un punto di attrazione per persone che vengono dall'estero. Nei nostri team si sono perfettamente integrate non solo gli italiani, ma si sono anche integrati degli ingegneri che provengono da fuori dall'Italia. Nello spazio arriva solo l'eccellenza ed è in aziende come questa, che nonostante la crisi, investono sui giovani e sul talento, che si fonda il futuro del paese e dell'economia. Forse il valore aggiunto di Argotech è quello di saper ascoltare, saper ascoltare le persone, sapersi sedere e mettere sempre in gioco. Archiviata la pratica IS Espresso, Argotech si prepara a mettere a punto altri esperimenti da far volare nello spazio, soprattutto per testare nuove tecnologie con ricadute pratiche per tutti noi.